buongiorno a tutti benvenuti in un nuovo video scusate l'assenza ma sono un po impegnato in questo periodo tra gli allenamenti ho poco tempo e comunque mi alleno e basta praticamente che non ho tante cose da farvi vedere come avete visto dal titolo oggi andrò a casa di toni e faremo qualcosa con sono 125 nella sua pista di casa lì niente finalmente una bella giornata di sole e di solito fa bello tutta la settimana e poi il weekend è un disastro invece oggi sabato primo giorno di sole di un weekend e sfruttiamo l'occasione appunto per fare qualcosa di figo ci vediamo ciao ciao Grazie a tutti. Siamo qui con Giovà, meccanico di Tony. Oggi siamo qua in pista a testare questo 125. Vedremo che sensazione avrà Antonio. Prima volta di torno in moto. Prima volta dopo un bel pari. Qui è la pista di casa sua. Diciamo un ritorno col botto, con una motina... Niente male. Niente male direi. E io sono addetto, l'uomo camera, il cameraman. E io sono addetto, l'uomo camera. No, no. No, no. 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 Era un sacco di tempo che non facevo più fotografie e video. Però mi ricordo ancora qualcosa dai. Sto sperimentando le foto con gli sfondi sfocati. e non stanno venendo male magari qualcosa so ancora fare dai Giovanni scendi dai mettili il piede su quella rientranza lì è forma di zoccolo di gnu come sono i tempi? i tempi sembra i migliori lui c'ha sempre 18 anni lui c'era sempre 18 buon allora Tony ha finito di girare io ho fatto un po' di foto un bel po' di video e adesso sto cercando di finire il giro per tornare a casa sua sopra so se da l'idea comunque mi sono divertito era tantissimo che non prendevo in mano una macchinetta fotografica ho fatto qualche cosa anche con la GoPro un po' di foto che poi vi farò vedere qui soprattutto abbiamo sentito un bel 125 due tempi suonare mi mancava un po' di due tempi e adesso rientro alla base ho camminato sono andato su per un salidone ripidissimo ho rischiato la vita no per niente perché sono andato troppo su adesso mi tocca tornare giù non so dove mi sono perso troppo grande sta casa mi sono perso aiutatemi ciao ragazzi siamo qui con questo due tempino primo giorno in moto dopo l'operazione in modo serio perché qualche giro d'enduro l'ho fatto già abbiamo cominciato con questo due tempi qui a casa qualche girettino divertente e speriamo adesso che tra un po' si inizi a fare sul serio dai buono abbiamo finito abbiamo mangiato adesso torno a casa vediamo di sistemare le foto i video a vedere cosa viene fuori e niente dai almeno ci siamo divertiti abbiamo fatto qualcosa di diverso e soprattutto era una bella giornata sono finalmente riuscito a portarvi un altro video su youtube dopo due settimane di assenza bene siamo arrivati a destinazione è stata una bellissima giornata ci siamo divertiti ora proverò a vedere cosa ho combinato monterò questo video sistemerò le foto monterò il vlog questo qui che state che avete visto e un altro video penso per instagram mi raccomando iscrivetevi come sempre perché dai vedo che in qualche modo qualche video riesco a portarlo quindi vi aspetto per vedere altri video commentate fatemi sapere cosa volete che vi porti nel canale prossimamente e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti